Tanti ragazzi mi hanno detto, mi hanno scritto, sapendo che venivo da lei, conoscendo lei meglio quanto lo conoscessi io, fagli questa proposta. Basta con questo malcostume della raccomandazione che è diventata quasi una cosa normale. Per il settore pubblico, perché i privati facciano quello che vogliono, per i soldi pubblici, carcere per chi fa o distribuisce raccomandazioni o le richiede, è d'accordo? Sono totalmente d'accordo, anche perché molto spesso è già reato. Quando insegnavo all'università ogni tanto arrivavano raccomandazioni per gli esami e il sistema è semplicissimo, basta dimenticarsene. Adesso purtroppo l'università è un po' peggiorata. Perché, dott. senatore? C'era già ai tempi miei, ma c'era più autocontrollo nella comunità scientifica, adesso ognuno fa come gli pare. Senta, lei ha dei portaborse, quanto li paga? Ah, non ho dei portaborse, ho dei collaboratori. Cosa fanno se lasciano? Gli garantisce un lavoro o li molla per strada? No, se non entro in Parlamento farò il pazzo. La schiavitù dei... Esatto, deve finire la storia che i portaborse sono... Cioè, deve essere garantito anche a loro un... basta col precariato dei portabori. È d'accordo? Sì, sono d'accordo, la borsa me la porto sempre da solo. Per la droga c'è anche qui tanta retorica. Dalle ricerche di cui disponiamo noi, segnalateci anche dai ragazzi, gli spinelli sono diffusi, diffusissimi. E solo una piccolissima percentuale di chi fuma uno spinello poi diventa tossicodipendente, credo il 2%. Cioè, proprio... Su questo tema non c'è stata tanta demagogia. Cioè, voglio dire, anche se un sedicenne fuma uno spinello, commette un reato, secondo lei? È così grave? Non commette un reato. Bisogna stare attenti. Adesso, sai, c'è una ragazzina che fa il quinto ginnasio con Mamiani, quindi c'è un monitoraggio continuo della situazione. Quello che mi dicono è che ne stanno alterando un po' la composizione rispetto ai tempi miei. E là bisogna stare attenti che c'è il rischio poi che effettivamente si creano fenomeni additivi. Però sono fenomeni che non vanno affrontati col proibizionismo, non ci mancherebbe altro. Io cerco di parlarne con mia figlia, di chiacchierarci un po'. Però se un sedicenne si fuma uno spinello non commette assolutamente... Quindi non va penalizzato. Non va penalizzato.